Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presentiamo l'operatore logico booleano AND, poi vi presenteremo l'OR e poi la trasformazione da decimale a binario. Incominciamo con l'AND. 1 e 1. Allora, A AND B. Allora, 0 0 da 0, 0 1 è 0, 1 0 è 0 e 1 1 è 1. Quindi abbiamo visto l'operatore logico AND. Adesso vediamo l'operatore logico OR. A OR B. Procediamo, prepariamo la tabella. Anche qui avremo la tabella 0 0, 0 1, 1 0 e 1 1. L'OR è detto anche disgiunzione logica. Ecco qui, prepariamo la tabella. 0 0, 0 1, 1 0 e 1 1. Allora, A OR B da 0, 0 1 è 1, 1 0 e 1 e 1 è ancora 1. Abbiamo visto la disgiunzione logica. Operatore booleano OR. Adesso vediamo la trasformazione da decimale a binario. Buona visione a tutti e vi aspettiamo per il nostro prossimo video. Grazie. 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 Grazie.